Nuovo anno e nuova Goal Parade. In attesa di ritornare alla nostra normale location, il purple di Piazza delle Erbe nel centro di Genova, ecco a voi una puntata speciale. Speciale appunto perché le 5 canzoni che ci accompagneranno nel nostro cammino verso il miglior goal corrispondono ai 5 brani più scaricati da iTunes in questi primi 20 giorni del 2013. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!